Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi andremo ad aprire 25 box di quelle giganti, quelle viola Vediamo se riusciremo a essere fortunati Ho deciso di fare direttamente questo e in base ai risultati che otterremo oggi, ovvero di quello che troveremo Poi decideremo se fare un successivo video e aprire 25, ho detto box prima ma sono regali Quelli grandi e successivamente in base a come andrà quello decideremo se aprire 25 di quelli piccoli Perché voglio riuscire a trovare il veicolo o comunque completare tutti i nuovi regali Perché sì, c'è stato giovedì scorso l'aggiornamento, suppongo che voi stiate guardando questo video lunedì Spero di sì, e quindi direi subito di andare a iniziare Qui con noi abbiamo un anatroccolo floreale, abbiamo una nuova, vabbè, sì Ah, questa qua forse la facciamo perché colleziona un giocattolo del tuo giornale Quindi chissà che avrendo qualcosa troveremo, cioè sbloccheremo questa missione Andiamo, vabbè non c'è bisogno che andiamo in piazza ora che ci penso Qui ho un po' di cosine Allora, allora, allora Eccoli qui, abbiamo 43 regali ma ne apriremo 25 Quindi fatemi fare un calcolo 25, 35 Quindi 18, ci devono rimanere 18 regali 25, 35 sono 10 40 sono 15 E 43 sono... ok, perfetto 18, giusto? Spero di non aver fatto una gaffa Allora, direi di aprirne uno subito qui Cosa sei? Ah, questo è un ultra raro E non mi ricordo se ce l'avevo Sì, ne avevo già uno Io nel video che ho fatto uscire venerdì Ho effettivamente aperto già dei regali Non ho trovato un granchè effettivamente Se non... oddio, forse due ultra rari, non mi ricordo Ma quello a cui aspiro io è il veicolo Quindi direi di continuare E di spostarci un po' in giro nella mappa Uh, questo non ce l'avevo Questo non ce l'avevo Guardate che bello Che poi è tutto un po' a tema api Veramente carina questa pistola Bello Ah, ecco qui Ecco qua, abbiamo fatto anche la missione Oh, devo trasformare un neon pet Vediamo, nel prossimo magari trasformeremo questo qui assieme Perché ne ho già tre Che è troppo bello ragazzi Quello neon, questo Ne ho già tre pronti E questo qua è l'ultimo Usciamo di casa e andiamo un po' in giro Oh, dove andiamo? Ragazzi, voglio andare sul tetto di casa mia Ad aprire il nuovo... C'è un altro regalo Eccoci qui Oh... Mi immaginate esce la macchina qui Può uscire la macchina sul tetto Intanto non usciva Questo qua già ce l'avevamo Infatti Ne ho quattro Va bene, andiamo avanti Ne apriamo un altro qui Voglio che mi esca la macchina qui Oh no Ma qui schiudo solo questi Saltiamo Uh No, volevo saltare sulla... Eccola Dove andiamo? Dove andiamo? Vediamo In cima a quell'albero Vediamo se si può andare No, non si può andare Mi sa, sugli alberi No Sul cartellone? Oddio, ma cos'ha questo ragazzo? Corre con qualcosa di verde in mano Dov'è? Dov'è? Ah, è entrato qui Casa di Siciliana ragazzi Entriamo a casa di Siciliana Molto carina Apriamone uno in casa della Siciliana Ah, questo mi mancava pure Che carino raga Oh, guardate Che bello Oh, troppo carino Bello Ci ha portato fortuna Quindi direi di continuare Questo lo apriamo Cos'è questo? Qua, non lo so Cos'è? Apriamolo qua Una tenda Uuuu E' un rampino Che carino E che cos'è? Raro Raro Questo mi mancava raga Non ce l'avevo questo Ok Oddio Per sbaglio L'ho aperto Va bene Il destino? E basta Ma continuiamo Di questi cosi E questo lo apriamo In una stanza Ma tra l'altro è sotto Raga Sta crescendo un petto Che petto stai crescendo? Non lo so Apriamone uno in camera E poi andiamo sotto Questo mi manca No ce l'avevo Ce l'avevo Sì Ne avevo pure tanti Ok Ah qui 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 Dov'è? Ho visto la ragazza che si muoveva Dove sei? Eccoci Sei tu la siciliana? Andiamo se ci porta fortuna Nooo Però questo è ultra raro Mi sa Sì Ha fatto la monella Ci ha cacciato di casa Questo Dove lo apriamo? Andiamo in piazza Allora Allora Vediamo qui in piazza Che cosa? Se ci portano fortuna Nooo Nooo Portateci fortuna Vai No No Dove lo Lo scriviamo qui Sopra il regalo grande Via Allora Ci stanno uscendo un sacco di ultra rari Eh E vabbè Ok Mettiamoci sulla macchina Vediamo se ci porta fortuna No Sulla macchina Girati Ok Ci siamo Allora Ma Che cos'è? Una maledizione? Solo ultra rari Ma Dico Non voglio sembrare Un'ingrada Un'ingrata Ogni volta Sbaglio Ma Oddio Dov'è? Oh Io continuo qui Dico alla fine Noi mi dispiace Questi passeggini Ce ne abbiamo tre Sono contenta Ma Andiamo Solo passeggini Qui si aprono Signori Venite Questo Ce l'avevo Sì Solo passeggini Stiamo aprendo Vai Andiamo Voglio vedere Fino a quando Continuiamo Oh No Oh 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 Prego No Solo Ultra rari Ok Non è più Solo Ultra rari Allora Ci dobbiamo Per fare Questa cosa Da sotto Le chiappette Ah Grazie Allora Dai però Sto aprendo Solamente Questi Tra l'altro Non so se avete fatto caso Ma effettivamente Non ci sta uscendo niente Di tutto ciò Infatti a me mancano Mancano quasi tutti Mi sembra Forse i pattini O Queste Le biantine Qua Il porro Mi manca Mi sembra un porro Un cipollotto Non lo so Che cos'è Ma vediamo se mi ricordo Allora Mi sa che mi mancano Questo quindi Questo porro Questo cipollotto Questo vasino Con la pianta E poi mi sa che abbiamo tutto Raga Ci manca Solo il leggendario Questo passeggino Ce l'ho I pancakes Questo Questo pure Vabbè Vediamo raga Vediamo Me la sono chiamata Perfetto Basta Passeggini Comunque Se vi mancano I passeggini Venite qui Parlo più Parlo più Basta Voglio andare Ad aprirli Nella piscina E ci andrò Saltellando Ok Siamo arrivati Prendiamo I nostri regali Ce ne mancano Poghi Da aprire Mi sa tre Ma raga Veramente Tutti ultra rari Sono fortunata E sfortunata Nello stesso tempo Vi ricordo Che Se Aperti Questi 25 regali Non troveremo La macchina Faremo Un secondo video Dove apriremo Altri regali Quelli grandi Chissà Magari saremo Più fortuni Di là Questo è L'ultimo Raga L'ultimo Siete pronti Non guardo E basta Ma quanti Passeggini Ma quanti Passeggini Ho trovato Va bene ragazzi Niente Direi che Per questo video È tutto Lascia un mi piace Se questo video Effettivamente Ti è piaciuto Commenta sotto Facendomi sapere Quale regalo Quale sorpresa Contenuta Nei regali Vi piace Di più E la mia Personalmente È la macchina Anche se Praticamente L'unico No Tre cose Mi mancano Però Avendo schiuso Questo qua Avevo Veramente Una bassa percentuale Di trovare I comuni Quindi Sicuramente Nel prossimo video Ci riempiremo Anche di quelli Noi Ci vediamo Al prossimo video E mi raccomando Iscriviti al canale Se ancora non l'hai fatto Ciao